Buongiorno dal Trofeo Le Benji, siamo qui dopo la partita tra Calcio Lentini e Alfa Sport. Il risultato è stato di 2 a 1 allo scadere dei due tempi regolamentari, poi ha decretato i risultati i calci di rigore che sono stati per 3 a 2 a favore dell'Alfa Sport. Andiamo prima a intervistare il migliore in campo della partita dell'Alfa Sport, ovvero Paolo Droglini, autore delle due reti di questa partita. Allora Paolo, è andata alla grande questa partita, una partita veramente combattuta? Sì, ci siamo impegnati, abbiamo dato tutta la nostra grinta. E si è visto in campo, poi vi scontrovate contro un Calcio Lentini che ha messo dentro alcuni dei suoi migliori ed è stato bello scontrarsi contro delle società così grandi. Erano molto forti, sì. Ok, va bene. Per quanto riguarda invece il Calcio Lentini abbiamo Salvatore Tavano, allora anche tu due gol all'attivo quest'oggi e poi hanno deciso i rigori. È stata una bella partita per noi, ma l'attraversa di Fabio Sequenzio non ci voleva. Eh sì, perché il primo calcio d'angolo è stato battuto da chi è detto, scusami? Fabio Sequenzio. Da Fabio, che purtroppo un po' sportunato in quell'azione ha preso un'attraversa piena, ma comunque una grande prestazione di entrambe le squadre oggi. Sì. Si può dire che ha vinto il calcio? Sì. Ok. Ed è tutto per il Trofeo Le Benji, ci sentiamo dopo. Grazie.